Ciao a tutti gli amici di Udub! La dedica di oggi è per Marta Filippi. Questa fantastica doppiatrice ha doppiato Ella Pornel in Fallout, Kinnan Shipka in Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Willow in The Owl House. Scoprite insieme a me quali altri personaggi ha doppiato nella sua carriera. Buona visione! Ecco, ultimamente mi sono esercitata con un'invocazione trovata nel Demonomicon e se provassi ad annunciare che sto cercando un famiglio e restassi in attesa di qualche volontario? La trovo un'idea davvero incantevole. Che mi dici del tuo nome battesimale? Sei riuscita a sceglierne uno? Sì, ho trovato il nome adatto. Edwina Diana. Edwina che è simile ad Edward in onore di mio padre e Diana in onore di mia madre. E non è solo per onorarli, ma per averli accanto. per sentirli con me lungo il cammino della notte. Luz! Seriamente, che sta succedendo? Sembra impossibile, Luz! Adesso è tutto perfetto! Davvero? È incredibile! Il presidente è rimasto colpito dalla mia magia e mi ha messo al corso di magia con le piante! Guarda! Il mio nome è Lucy McLean e sono sempre felice di contribuire al benessere della mia comunità. Abilità tecniche. Membro attivo dell'Associazione Giovani Operai perché mi mantiene in forma. Abilità scientifiche. Ovviamente niente in confronto a mio padre, ma non dico mai di no a una sfida. Abilità oratorie. La mia vera passione è insegnare storia americana con attenzione all'etica. Mi dedico con entusiasmo alla ginnastica e alle lezioni di scherma. Esperta in autodifesa. Mi diletto con il tiro al bersaglio. E me la cavo niente male. Nel mio tempo libero, adoro passeggiare e guardare film con mio padre. Fare giardinaggio, sempre con mio padre. Leggere insieme lo stesso libro e commentarlo. Stiamo ancora provando a coinvolgere mio fratello. Lo farà quando sarà pronto. I miei organi riproduttivi sono sani e intatti e la mia igiene è ben curata, solo che ancora non sono riuscita a trovare un compagno idoneo al matrimonio. Cioè, almeno uno che non sia un parente. So che c'è una buona ragione se abbiamo questa regola. Quindi, nel pieno delle facoltà fisiche e mentali, vorrei presentare la mia candidatura al consiglio per partecipare allo scambio triennale con il Volt 32. Ma certo, lo affamiamo. Se eliminiamo la sua fonte di nutrimento, finirà per indebolirsi e sarà più facile rimuoverlo. Quindi lo stiamo facendo. Ma il mio istinto non è d'accordo. Il faro non è la parola e le multinazionali non contemplano il diritto di libertà di parola. Sostenendo di esercitare un diritto, trasformano la nostra democrazia in una plutocrazia. Questo mi suscita emozioni e le esprimo. Non ho alcuna difficoltà a tenere insieme logica e sentimenti allo stesso tempo. E non diminuisce il mio potere. Lo espande, semmai. Certo che mi ricordo. E le dico la stessa cosa che ho detto allo SHIELD l'ultima volta che mi ha interrogata. Io non l'ho visto. Non sono venuta per... l'uomo verde. Veramente, è il dottor Bruce Banner. Scusi, ma ho fretta, agente Romanoff. Sono... Merda. Ragazzi, venite a vedere una cosa. Quanto vorrei essere alta quanto voi. Sono invidia. Ogni emozioni è importante per Lyle. Wow, un invito esclusivo. Andiamo! Dobbiamo averli anche noi. Vi è piaciuto questo video? Ricordatevi di lasciare un like, condividerlo sui social e di iscrivervi al mio canale. Grazie a tutti e alla prossima! Grazie a tutti e alla prossima!